Oggi trattiamo di un nuovo bando voluto dalla Camera di Commercio di Salerno. Trattasi del bando B2B-B2C rivolto a tutte le micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale o almeno operativa in provincia di Salerno. E' un contributo a fondo perduto, fino all'80% delle spese ammissibili fino a un massimo di 5.000 euro, rivolto a permettere al tessuto imprenditoriale salernitano di avviare delle piattaforme digitali, migliorare le loro vetrine digitali, utilizzare strumenti di marketplace con lo scopo di far riprendere in particolar modo il settore del commercio, del turismo e dell'artigianato attraverso l'e-commerce delle nostre imprese salernitane. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 23 giugno fino al 23 luglio o comunque fino a esaurimento fondi. E' una domanda a sportello valutativa, quindi tutte le domande che verranno, verranno valutate in ordine cronologico da una commissione istituita dalla Camera di Commercio di Salerno. Noi come confesercenti siamo qui a innanzitutto informare su questa importante misura. Nel contempo abbiamo già individuato degli importanti fornitori di tali servizi che possono aiutare alle imprese che ne fanno richiesta a poter avviare questi progetti di marketplace oppure di piattaforme digitali, ma soprattutto aiutiamo le imprese salernitane nella redazione, nell'invio, nel monitoraggio ed anticontazione della misura stessa. E come sempre dico, la confesercenti c'è e cerca di trovare soluzione per le proprie imprese.